Una delle prime azioni all'indomani del mio insediamento è stata quella di chiamare gli uffici preposti per conoscere le somme stanziate in bilancio dalla precedente amministrazione per gli eventi culturali e non solo dei comuni. La cifra in bilancio, che si aggira oggi sui 5.000 euro per coprire le necessità di portare avanti cultura e folklore nei nostri 131 paesi, non merita né giudizio né commento. E' quanto evidenzia il consigliere regionale Gerardo Bellettieri, il quale ritiene pretestuosa l'iniziativa del consigliere Braia, che ha presentato un'interrogazione sull'argomento. Braia fa solerte richieste al presidente Bardi affinché risponda in merito alla mancanza di atti di giunta sulla necessità di finanziare le iniziative culturali e tradizionali che animano la nostra regione, afferma Bellettieri. Solerzia che stupisce nella misura in cui la cifra stanziata in bilancio dalla precedente amministrazione è così esigua. Le modalità per finanziare queste esigenze, prosegue Bellettieri, dovranno essere corrette e non si potrà proseguire nel solco della continuità, altrimenti si otterranno nuovamente questi numeri imbarazzanti.